SUTRE CONSAMERA Settantacinque anni fa, questa nazione assisteva alla definitiva distruzione del ghetto di Vilnius. Così culminava l'annientamento di milaia di ebrei che era già iniziato due anni prima. Facciamo memoria di quei tempi e chiediamo al Signore che ci faccia dono del discernimento per scoprire in tempo qualsiasi nuovo germe di quell'attesamento pernicioso.